e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo video sono zenex e oggi signori siamo tornati su crash team racing dove ormai siamo dei veri professionisti o che nell'ultimo episodio avevamo sbloccato proprio la zona dei ghiacci ed eccoci qua e come vedete abbiamo proprio la nostra destra la prima pista disponibile stiamo andando alla grande con le tempeste vedete contro chi ci sfideremo in questa pista quale sarà il boss di questa nuova area insomma abbiamo un sacco di cose da scoprire stiamo sbloccando anche un sacco di cose sono molto soddisfatto se pensiamo a quando abbiamo iniziato dove siamo adesso proprio dei miglioramenti da gigante passi da gigante corso trofeo con la tempesta area parco dei ghiacci e allora signori siamo pronti vediamo già dei pinguini mi chiedo quali siano i pericoli lungo questo tracciato vediamo un po vediamo un po cosa ci aspetta siamo tutti pronti ai nastri di partenza scaldiamo i motori 21 partiamo alla grandissima cerchiamo di superare ma niente ci fanno scudo e allora cerchiamo di almeno prendere una cassa non farcela rubare si ce la facciamo il tempo perfetto che distruggiamo tutti grazie al a questo bonus attenzione tnt no vabbè tnt lo mettevo qua missile perfetto perfetto i missili sono molto molto utili e però quando lo prendiamo niente ho spiegato tre missili mannaggia ma siamo secondo primi secondi primi no secondi siamo secondi c'è cerchiamo adesso di superare attenzione perché il dottore molto acquerrito porca miseria proprio per il rotto del punto riusciamo a passare ed evitare il pericolo cerchiamo quasi andare dritti perfetto ok o la tigre si prende il tnt vediamo se riesce di esplodere no riesce a non è la tigre il dottore credevo fosse la tigre ma porca miseria poi no siamo in mezzo alla neve no rallentevo troppo così dai no porca niente rega è proprio stiamo sbagliando tutto il dottore già volato praticamente siamo all'ultimo giro siamo all'ultimo giro vediamo se questa casa sarà fortunata e il tempo che però in realtà non so fino a che punto ci possa servire vediamo eh sì però il dottore non lo riusciamo a beccare lo stesso ci siamo avvicinati molto in realtà il dottore siamo quasi attenzione no siamo esplosi siamo esplosi svegliato eh siamo contro abbiamo la protezione no niente niente rega qua non ce la facciamo abbiamo sbagliato abbiamo sbagliato vabbè ci sta ci sta essendo la prima volta che vediamo questa pista ci sta fare degli errori di degli errori di valutazione comunque va bene ci siamo ci siamo adesso siamo esperti adesso sappiamo come comportarci sono sicuro che la prossima andrà meglio speriamo partenza non proprio ottimale vediamo cerchiamo di difendere le casse ne prendiamo una sì sbagliamo il momento del salto però però abbiamo acqua con dalla nostra parte attenzione partiamo più veloci di un missile madonna dai siamo velocissimi eh però troppo veloci forse levati porca miseria no ci ruba la cassa nel primo giro lo concludiamo in seconda posizione e purtroppo questo è molto veloce sarà proprio il suo ambiente preferito qualche miseria missile ok spariamo il missile si lo riesciamo a prendere attenzione passiamo anche in vantaggio grazie al missile prendiamo la cassa stavolta cassa stavolta ce la facciamo sì brutta curva qua brutta curva questa la buttiamo nooo porca miseria proprio l'ho buttata nel momento più sbagliato sarebbe bastato ad aspettare un secondo in più tnt non ce ne frega la mazza o attenzione quello scivola scivola recuperiamo un po' di terreno tnt lo buttiamo qua e raga qua serve una qua qua serve qualcosa perché se no non ce la facciamo a prenderlo se no non ce la facciamo vediamo un po' tnt ma porca miseria porca evitiamo anche noi la cassa non siamo certo dei geni del male però prendiamo qua il turbo attenzione grande lotta alla fine siamo sul fine riserva adesso qualcosa di interessante si il missile proprio lui è proprio quello che ci serviva è proprio lui che ci si piaccia lo teniamo caro ce lo devo evitiamo la bomba ce lo teniamo caro credo di sì per pochissimo ragazzi ce la facciamo per pochissimo continuiamo andiamo avanti continua la fratta l'avrò fatta circa un 6 7 volte non è stato facilissimo però alla fine ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta sblocchiamo un nuovo trofeo ovviamente guardate come piangono e guardate noi come siamo felici ingenuamente allegri grazie 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 abbiamo sbloccato abbiamo sbloccato un nuovo edesivo perfetto continuiamo ad andare verso di qua via rocciosa no dobbiamo andare verso di qui ok perfetto ottimo grazie corso trofeo miniere drago aria parco dei ghiacciai molto bella anche questa mappa devo dire molto molto interessante siamo pronti siamo pronti mi ricorda come ambientazione non so perché indiana jones e i predatori dell'arca per tutta sembrerà molto strano da dire però raga non lo so perché mi ricorda un po quelle quelle scene la allora adesso però cerchiamo di concentrarci partiamo subito forte con acquaco che ci fa da spalla cerchiamo di andare a prenderci il primo posto e basta il leo di oh brutto attenzione brutto qua brutto qua e qua dovremmo andare di drift in realtà dovremmo andare di drift attenzione al palo no porco miseria non l'ho presa vabbè prendiamo però il turbo si benissimo no dai però questa è proprio un'infamità è un'infamità prendiamo cosa prendiamo un'infamità questo che esplode benissimo siamo secondi al momento vediamo se siamo ancora fortunati altri tre missili benissimo possono tornare utili sicuramente l'abbiamo preso si l'abbiamo preso ottimo ok siamo primi allora riprendiamo ok prendiamo un altro ok siamo tutti qua ragazzi siamo tutti qua prendiamo la cassa la prendiamo noi andiamo a prenderci il turbo e prendiamo anche questo bellissimo facciamo tutti fuori ragazzi e mo siamo primi e mo siamo primi siamo primi con un certo distacco ma sappiamo bene che purtroppo il distacco in questo gioco è molto relativo attenzione perché è grande riusciamo ad evitare anche il missile che avevamo attenzione qua attenzione qua va basta con ste cazzarola di pozioni dai eh basta ho tutte pozioni però che cazzarola e qua muri muri ce la stiamo facendo e levati no porca miseria vabbè noi prendiamo no anche lui la prende no lui non l'ha preso lui non l'ha preso prendiamo le mele prendiamo le mele prendiamo le mele che ci danno più velocità no nel fando no porca miseria no siiii grandissimo mamma mia per 7 centesimi ragazzi è stato inaspettatamente inaspettatamente difficile questo livello eh senix youtube channel primo grandissimo posizione 20 continuiamo continuiamo e guardate come sultiamo felici guardate guardate premi x per continuare continuiamo vediamo un po' grazie 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 mille grazie maestro abbiamo sbloccato uno set di ruote team cortex vabbè per ora lasciamo queste che abbiamo che mi piacciono particolarmente leggere questa mappa ragazzi è veramente difficile non so perché non sia in grado di farlo e allora ragazzi prima di andare a affrontare l'altra pista per questo episodio è tutto io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale qualora vi piacessero queste serie di andare nelle mie pagine facebook e instagram che trovate in descrizione io mi posiziono qua però a piano eh che trovate in descrizione lasciate un like al video e condividetelo e noi ci vediamo sempre domani con dei nuovi video ciao